Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo momento, noi siamo in This World e in questo momento faremo la crossbar challenge in compagnia di... E io non ho da dire, cominciamo! Vai! Eeeh, volevi! Simo! Benvenuti! Simo lo scopo e prenderò l'altra parte? Ehm, ma pa? Si chiama crossbar challenge? Ugierdzi! Bolevi! Ugierdzi! è proprio l'unico non si vede nooo e non va e non va la malta sempre io ho preso ah io si capoleta che è visto che è visto no, che è visto si, magari è stato è molto è Oh levi! Oh levi! Oh Sai che ti sei rotto simone buono Sempre due, sempre due, sempre due, sempre due, sempre che faccia Convinto lui, riconvisti tutti Io vado in 10 Io vado in 10 L'ho detto che non ho 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 in 10